Questo lavoro che non ho fatto solo, ho fatto con tutta la persona dell'Università di Maddalena e con la persona, con i colleghi e amici dell'Università di Roma. Abbiamo raggiunto molti risultati, con questi risultati io credo che si può avanzare con l'alleanza in una maniera più efficace. Le due istituzioni sono il risultato di un lavoro molto profondo in termini di investigazione, di collaborazione, di compenetrazione delle due istituzioni, sono il risultato come di questo lavoro previo. In la maniera in cui la Università va avanzando con maiores titoli di doctorato, possiamo elevar anche la cooperazione a ese nivel. Inoltre a tutti i professori che a livello locale, regionale o internazionale, come è l'occhio, hanno sviluppato con l'Università di Magdalena a través dei sui programmi che hanno generato processi di altissima qualità per la instituzione un esforzo importante che si riconosce non solo a la professora e il suo gruppo ma anche a tutto il tema della alianza e della cooperazione la Università del Magdalena ancora più inclusiva e innovativa